Riprende il progetto Collezioni Minime a Palazzo Lascaris con l'esposizione di due teche con reperti delle collezioni del Museo Regionale di Scienze Naturali. Fino all'11 gennaio 2015, nell'ingresso del palazzo, sono esposti esempi di morisia, una rara pianta botanica originaria di Sardegna e Corsica. Sarà possibile vedere i campioni botanici e alcuni modelli in cera dei fiori dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18. Perché la scelta di riprodurre la morisia in cera? Innanzitutto perché la morisia è una pianta rara, è un endemismo e il suo nome unisce quella che è stata la storia della Sardegna e del Piemonte, in quanto Moris era un naturalista che fece le sue ricerche botaniche in Sardegna. Perché la scelta della cera? Perché è una tradizione tutta italiana, quella della ceroplastica scientifica, con la quale si realizzavano nei secoli passati essenzialmente modelli anatomici, ma è meno noto il fatto che grandi ceroplasti come Susini, Calamai e Tortori passarono per la botanica. Quindi diciamo è un po' ridar vita a un'arte pressoché dimenticata. Ecco, è un po' ridar vita a un'arte pressoché dimenticata. Grazie. Grazie.